Grazie a tutti. Alla parte interessata spetterà un indennizzo per danno lecito da processo, ai sensi dell'articolo 26,2 del Codice del processo amministrativo, che ha introdotto nel sistema della giustizia amministrativa un indennizzo per il pregiudizio patito dalla parte vittoriosa per l'esistenza e la durata del giudizio da liquidarsi in via equitativa. L'indennizzo in questione andrà calcolato secondo il criterio della percentuale sulle spese di lite, così Consiglio di Stato, quinta sezione, sentenza numero 3083 del 2011, tenendo anche presente la natura del giudizio.